Vai, 10 lente, sentite, una bella decelerazione, 3, 4, 5, un po' meno al carico, vai, ok, Ok, 10 veloci, quello che viene viene, vai, su, 8, 9, 10, 8, 8, 10, 4, 5, un po' meno wurde, però quello che si tiene adesso è che la gaba comincia a riempirsi quindi se puoi suotarla e niente di metà dura ok? questa forza forza è poi te l'appoggio a forza vai 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 2 su, chiudi lente 3 3 vai vai, continua 2 3 4 5 ah no eh si ah dai su lo sto io eh vai ok su un attimo di piatto dai 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 guardi un attimo di piatto un attimo con un attimo di piatto ora stai di patica la testa la testa è iniziale che è iniziale No, no. 10 secondi ne voglio ancora 4 fibra, eh lo so dai 2 2 3 4 5 6 7 8 Vai! Sì, vediamo! Volita! Esatto! Che tremano! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1, oppa! Ah! E questa è la staglia! Questa sembra una cazzata! Tammata! Grazie, Rino! Quello che fai è un cluster da 12, 10, 8, 6, 4, Ti dico assolutamente che la prima serie da 12 e la seconda ti vanno via! Puoi cominciare a rinuncare, a rinuncare l'attato e tutto, e quindi farà male! Quello che farai negli altri microcicli è lavorare sempre sulla sodia, con i pompini, davanti all'arico! Allora, la serie la fai, 10 secondi e la resta, le gambe le tieni su! Ti lascio agganciare nel carrello, se no ti si... seppurano, però e quindi li tieni sempre su! Ok? Ok! Provo è così! Così? Ecco! Se fossero così, sono perfette! Ok! Squeeze! Ok! dai eh, strinza lei, strinza lei strinza tre quattro cinque ok dai che tu adesso ce l'ho strinza vedi bene eh bravo dai continui a macinare, macina, macina non dagli tre e quattro non dagli tre e quattro, ancora questo macina, vai oh così bravo, ma pistone vai bravo, bravo ma pistone non 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 qui Se sono chiudessi gli occhi, un buon segno. Quando cominci a vedere gli occhietti piccoli, come se essi sonno, un buon segno. Dai! Dai! Ecco ci sei! L'ultima! Su! Dai! Codgetemi! Su! Ah! Ok! Bravo! Sono belli, non è picchi? Ma che stanno pentando un chiodo, con il martello, 10 martellate, pam 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 pam! Bravo! Quindi, backstation, front, pressa, quadricipile, adesso abbiamo fatto un quadricipile un primo, dietro il tutto, barl, poi vediamo, ok, facciamo barl, 10 colpi, 5 secondi di contrazione, ogni colpo, ok? Facciamo barl, 10 colpi, tac, 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 ok? Fate bene, sentite, con la testa, 8-10 colpi, 5 secondi di contrazione. Ok? Ok? Goditele, eh! Altite una cosci. Ok? Ok? Voglio sentire che arriva il soffino dell'interno coscia. Dai! Sfibralo! Dai, sfibra! Hop! Sfibra! Dai! Sfibralo! Sfibra! Sfibra! Moon. Sono corziali queste! Dai, fiumurate! Vavolo! Tante. E se te ne aggiusti come vuoi? Ah! Ah! Ok, ok. Ah! Ok. Ah! Due. Come on. Ah! 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 Ah!